Si è spento Salvatore Vancheri, l'imprenditore del caffè. Il Covid mieta è ancora vittime in città. Vancheri, 63 anni, impegnato nella battaglia per i diritti dei commercianti, presidente di PMI. Lo avevamo intervistato un mese fa, da imprenditore innamorato qual era della sua città, era sempre vicino a chi portava avanti le battaglie. Salvatore Vancheri era un uomo da sempre in prima linea. L'imprenditore Nisseno era proprietario dell'omonima torrefazione e del Vancheri Store 9300. Mercoledì scorso il ricovero al reparto malattie infettive per la polmonite Covid-19 e poi il peggioramento del quadro clinico e i tentativi dei medici di salvarlo, il necessario ricovero in terapia intensiva e dopo l'epilogo doloroso. Nella sua città ha investito e creato la sua azienda, con la collaborazione della moglie e dei figli, sempre in prima linea con passione e voglia di rinascita per Caltanissetta, un uomo cordiale che si è prodigato per la crescita della sua amata terra e il suo profilo social oggi è pieno di ricordi dei tanti che hanno espresso il loro cordoglio.